Le disuguaglianze sociali ed economiche che viviamo nel nostro Paese sono il frutto di precise scelte e di politiche sbagliate degli ultimi anni. Non sono quindi un destino e non dobbiamo rassegnarci ad esse. Il Forum Disuguaglianza e Diversità in questi anni ha proprio lavorato con questa intenzione, quella cioè di trovare delle soluzioni praticabili per contrastare i meccanismi che generano la disuguaglianza nel nostro Paese e lo abbiamo fatto tentando una combinazione ideita tra ricercatori e organizzazioni ed elaborando anche delle proposte concrete e delle piste di lavoro. Lo abbiamo fatto con un metodo che ha previsto la condivisione e la costruzione di proposte concrete e anche la partecipazione dei membri delle organizzazioni rispetto alla costruzione di queste proposte. Lo stesso metodo verrà utilizzato anche dopo la presentazione di questi contenuti, presentazione che avverrà il 25 marzo. Il 25 marzo le proposte di giustizia sociale del Forum Disuguaglianza e Diversità verranno pubblicamente presentate e queste proposte si sviluppano su tre dimensioni, il cambiamento tecnologico, il potere del lavoro e il passaggio generazionale. Quello che ci auguriamo è che queste proposte aperte possano continuare a essere arricchite dagli stimoli provenienti da membri delle organizzazioni e anche da tutti coloro che nel nostro Paese vorranno impegnarsi per debellare e superare le disuguaglianze.